Un microscopio integrato con tomografo intraoperatorio ad alta definizione, in grado di dare al chirurgo immagini dell'occhio real time in tutte le sue strutture, anche quelle non visibili otticamente durante l'intervento. Sono proiettate in sovraimpressione direttamente nell'oculare, consentendo al medico di avere una visione senza precedenti. Un apparecchio di nuova generazione, da poche settimane in uso nel reparto oculistica del Miuri di Acquaviva, l'unico in tutto centro sud Italia. Eccolo in funzione durante un operazione chirurgica. Io contestualmente mentre opero oltre al campo operatorio ho l'immagine del tomografo, cioè quindi di questo apparecchio, di questa scansione laser che mi dà una sezione istologica del tessuto che sto trattando. Il vantaggio di avere contestualmente il reperto anatomopatologico di quello che sto trattando e quindi essere certo della risoluzione del quadro clinico. E qui è ricostruito il quadro tomografico che evidenzia i vari strati della retina, un apparecchio che si interfaccia con gli altri. Noi lo possiamo utilizzare su tutta la chirurgia oculare, per esempio nei trapianti di cornea. Nella chirurgia della refrattiva e della, chiamiamolo della cataratta, possiamo controllare un buon posizionamento di una lentina. Nella chirurgia retinica chiaramente abbiamo il massimo. Noi abbiamo una media di chirurgia retinica di circa sei interventi al giorno, quindi faccio il calcolo, sono già un centinaio di interventi.